radio forcella on the road buona serata a tutti dal vostro cianfranco vi metto in descrizione quattro video di radio forcella pubblicati su rumble e mi raccomando iscrivetevi al canale rumble dove potete vedere tutti i miei video di radio forcella ok un bacione dal vostro cianfranco una buona serata a tutti e mi raccomando iscrivetevi intanto e guardate tutti i video di radio forcella e condivideteli ok ciao a tutti per la sinistra Grazie.